Grave lutto nel mondo del trail running per la scomparsa di Andrea User, atleta svizzera di 47 anni che ha perso la vita lo scorso weekend in un incidente in montagna. La User si stava allenando sui sentieri vicino a casa quando è scivolata sul ghiaccio precipitando per 140 metri, per lei non c'è stato nulla da fare. Nel 2017 ha vinto il Trail World Tour, due secondi posti all'UTMB nel 2017 e 2016, sempre nel 2017, prima all'Ager Ultra Trail, 101 km alla diagonale Defoe, vinta anche nel 2016, nel 2016 la vittoria alla Lavaredo Ultra Trail. Grave lutto